Benvenuti in una nuova puntata di Diva Podcast. Oggi ho qui con me un super ospite speciale, quindi questa è una puntata speciale. Se vedete lo sfondo diverso, l'audio un po' diverso, è perché appunto non sono nel mio studio, ma quindi Diva Podcast in trasferta con un super ospite, quindi sigla e a tra poco. Allora, benvenuti in questa nuova puntata. Sono qui con la fantastica Maria Sofia. Grazie per avermi invitata e grazie per avermi salutata, soprattutto l'educazione prima di tutto. Beh, ci manca che non ti saluto nel mio podcast. Vabbè, in altri mi invitano, facendo io la vittimista, mi additano anche di esserlo solo per insultarmi, quindi a volte il saluto non è scontato. Benissimo. Allora, tu devi sapere che sei la prima persona che ospito nel mio podcast, perché il mio podcast in realtà è dedicato solo a me stessa, cioè giustamente un'autocelebrazione di me stessa. Però, dato che abbiamo avuto occasione di vederci, perché faremo una collaborazione per OF, che comunque è da celebrare altrettanto, quindi ci stava questo compromesso. Ho pensato perché non invitare Maria Sofia nel mio podcast a fare questa puntata specialissima insieme a te, in cui però non ho voglia di parlare dei soliti argomenti, quelli per cui ti insultano anche. Potremmo accennare sicuramente, però io vorrei capire qualcosa in più di te, cioè i segreti di Maria Sofia, la verità di Maria Sofia. Sì, sì, nel senso, oltre ad essere suggestiva come spiegazione, come anche modo di presentare un certo tipo di contenuto con un personaggio come me, che sicuramente è controverso, non tanto per come si pone sui social, quanto più per come la forma dei suoi video va a impattare sulle persone, visto che do fastidio per come urlo, do fastidio per come rompo il cazzo, da fastidio per quello che dico, è anche bello perché noi magari possiamo essere in disaccordo su tanto, parlando per esempio di diverse tematiche sociali. Esatto. Però l'umanità messa, secondo me, a disposizione ci aiuta a legare, cioè va oltre ogni limite. Ad esempio abbiamo scoperto che non possiamo cenare insieme. Esatto, perché una mia amica ha pronotato in un ristorante vegano, Alicia non è vegana e non mangia vegan, e quindi ci dobbiamo separare per questa sera, ma ottimizzeremo bene il tempo qui. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi voglio farti una domanda che può sembrare stupida, ma perché tu sei così? Nel senso, tu sei una ragazza giovanissima, è appena 18 anni, quando non ci conoscevamo ancora bene, io pensavo che tu ne avessi molti di più, non perché tu li dimostri assolutamente, ma perché con una mente come la tua, interessata ad argomenti così seri, l'attivismo, eccetera, dai l'idea comunque di una persona più grande, non di certo di una ragazzina. Poi tu mi hai detto, quando ci siamo conosciute, è che tu già da quando avevi 14 anni hai cominciato, diciamo, non so se con i social. Con i social, questa carriera da attivista, per così definirla. Esatto, e è strano che una ragazza così giovane abbia questo cervello come il tuo, perché comunque sei veramente molto molto intelligente e che sia interessata una persona così giovane a queste tematiche, alla serietà con cui le porti avanti. Quindi è qualcosa di interessante, sei un piccolo genio. Io immagino te da bambina che eri un piccolo genio, un prodigio. Beh, la prima volta che io sono svenuta è stato quando avevo tre anni pensando al concetto di infinito e poi documentandomi ho scoperto che questa fobia ha un nome e ricade nella peirofobia, cioè sia la paura della morte sia la paura dell'eternità, che poi mi ha portato anche a sviluppare un interesse filosofico di contorno a quei tempi, che ora però è diventato principale nella mia vita. E credo che possa essere riassunto in una sorta di progressione, perché io non è che sono partita con qualcosa in più rispetto alle altre persone. Io cerco anche di avere una certa umiltà, almeno è il mio scopo, poi se risulto arrogante per qualche persona mi dispiace pure. Il punto che mi fa rimanere ferma su questa strada e magari mi ha dato nel tempo e spero mi darà ancora accesso a ragionamenti interessanti, a condividere delle cose belle, è il fatto che se mi pongo una domanda e la risposta è contraria rispetto a quello che mi sarei aspettata, non la rifiuto mai. Cioè io non penso che la verità debba essere nascosta, possono esistere tante verità. Certo, è vero questo, assolutamente. Però se io penso una cosa che va contro i miei ideali, perché molte volte noi ci approcciamo alle riflessioni solamente per contrastarle, se effettivamente mi viene dimostrato, anche dai miei stessi processi mentali, che quello che di nuovo mi è appena entrato nella capoccia, effettivamente ha un senso. Io non è che per miei bias, non è che per mie debolezze non lo accetto e quindi accantono il pensiero. No, per quanto mi faccia male magari abbandonare i costrutti a cui sono sempre stata abbandonata, dico, cazzo, però lo devo accettare. Certo, beh, questa è una cosa giusta, anche perché come dicevi prima, sai quanta gente mi ha scritto quando abbiamo collaborato, perché abbiamo fatto una diretta insieme su Instagram, collaborato virtualmente, perché oggi è la prima volta che ci incontriamo dal vivo. Ricordiamolo per il clout, per rimandare. Però avevo fatto anche una puntata del podcast in cui parlavo di te, ti ricordi? Sì. Per la storia del revenge porn. Tanti hanno scritto che sei una persona arrogante, perché pensano che tu voglia imporre le tue idee. Tu che cosa pensi di questo? Cosa risponderesti a queste persone? Vorrei tanto far capire che la dedicazione, o comunque la passione che una persona ci mette nel proclamare le proprie posizioni, non significa non cambiarle, perché il motivo per cui sono arrivata anche ad averle così raffinate, diciamo, con tutto magari, senti la struttura dei miei video, arzigogolata, piena di ragionamenti, è proprio perché io in primis mi sono messa in discussione, per cui io non impongo niente. Se le persone mi dovessero dimostrare che ciò che dico è una cazzata, bam, schiocco di dita, cambierei idea. Quindi sì, però io penso che loro ti diano dell'arrogante, proprio perché magari cercano di, questo l'ho visto anch'io, cercano di portarti le loro teorie e tu comunque sei molto insistente sulle tue. Quindi io credo che questo, che a me piace sinceramente, perché a me piacciono le persone che si impongono, però magari per altre persone risulta essere una forma di arroganza, perché l'altra persona pensa, ok, però lei non vuole capire quello che io sto cercando di dire. Ecco, questo. Sai però come mi verrebbe da ribattere, che forse si partono da, proprio dei presupposti educativi che sono differenti, proprio magari a livello di formamentis, a livello di quello che stiamo facendo. In un dibattito, una persona, visto che qui non si sta parlando di una questione personale, perché se io e te discorriamo di, visto che prima l'hai citato, veganismo, piuttosto che di qualsiasi altro aspetto della realtà, non è che parliamo di Alicia o parliamo di Maria Sofia, parliamo di una dinamica sistematica, visto che poi si applica a tutta la nostra realtà, a tutta la nostra società, che può essere indagata al di fuori di noi. Quindi io, per comprenderla, non è che devo far riferimento a quello che mi dici tu, nel senso, se tu mi dici qualcosa, non è che te la devi prendere se poi ti rispondo, perché non è che sto andando contro te, sto andando contro la tua idea, che non è tua, è un'idea come un'altra, un milione di altre persone possono condividere, diciamo, i tuoi stessi punti, per cui, don't take it too personal, ed è per questo che io non riesco a vedere il mio approccio come un approccio violento, come un approccio... Sì, 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 certo. No, no, ma io sono assolutamente d'accordo con te. È chiaro che però le persone che discutono con te si trovano veramente in difficoltà, perché comunque sei molto prorompente, sei molto... Quindi, credo sia per questo che loro poi ti additano, diciamo così, come arrogante. Io ho visto alcuni di questi, di queste discussioni che ci sono state e capisco quello che loro o quello che loro intendono. Ma parlando invece più di cose personali, perché io qui sono curiosa delle cose personali. Tu da piccola com'eri? Da bambina? Prima di risponderti, voglio... Solo perché sono proprio una persona che si fissa sulle cose, più che... Non per insistere, come diresti tu, ma proprio perché mi piace a livello di perfezionismo dire tutto in maniera completa. Il problema poi, secondo me, riguardo la questione precedente, ti ripeto, poi rispondo al fatto di come ero da piccolo, non è che mi voglia sottrarre per imbarazzo, è il fatto che le persone poi pensano che il capire una parte di un ragionamento significhi per forza accettarlo, ma se io effettivamente arrivo a quello che mi vuoi dire tu, ma penso ancora che sia una cazzata, che devo dire? Non devo più esprimere la mia opinione? E mi fa morire che poi la gente dice lei impone quello che pensa, impedisce che le altre persone poi abbiano questa libertà nel momento in cui il mio non dover più insomma portare avanti la discussione significherebbe limitare la mia libertà di esperienza. quindi è paradossale, però parlando del bambina, perdonami se mi sono dilungata, come ero da bambina, chiacchierona, come adesso, forse più prolissa, perché adesso, magari anche, anzi ora, perché non mi piace nemmeno ripetermi, visto che prima avevo detto adesso, ho imparato un po' a smussare il mio spaziare tanto, perdermi in ore e in ore, nel veramente affrontare qualsiasi cosa, perché mi sono posta un obiettivo, cioè quella di essere ascoltata sui social, è chiaro che sono già avvantaggiata perché ho degli script, quindi per esprimere dei concetti so che lo devo fare entro un certo tempo, altrimenti non arrivo. Questa cosa, magari per deformazione professionale, la vedo anche nella mia vita quotidiana, cioè adesso io me la sto prendendo molto, molto alla larga, perché so che ci sei tu, so che siamo a nostro agio, quindi me lo posso permettere, però se io ti dovessi parlare per convincerti di qualcosa o semplicemente per farmi ascoltare, perché non pretendo di convincere nessuno, non lo farei con tutte queste parole, arriverai dritta. Quindi rispetto a come ero da piccola, molto, molto, molto rompicoglioni, lunga, logorroica, come sono adesso, sempre così, ma un po' di meno. Ma già quando eri bambina tu avevi questa cosa di fare questi ragionamenti, quindi ti interessavi magari già quello che accadeva nel mondo invece magari di giocare con le bambole, io ti immagino un po' così. Sì, anche perché poi forse sarebbe interessante, pure se magari rigadiamo nella solita retorica di gap generazionale, che cerca molto di soffermarsi su questo, magari anche il mondo dei videogiochi ha aiutato tanto, perché se persone di vent'anni più grandi di me, vivendo la loro infanzia, magari si ritrovavano a giocare con le bambole, io magari avevo in mano Pokémon Nero, che per chi non lo sapesse, lo dico anche a te, non so, a te piacciono i videogiochi? non ho mai giocato ai videogiochi, proprio totalmente ignorante sull'argomento. Allora ti lascio una piccola postilla, per cui c'è tra l'altro PETA, che è un'associazione animalista anche un po' particolare, io non condivido molto delle cose, ha fatto uscire un'animazione denigratoria per Pokémon Nero, sostenendo che tutto il franchise promuovesse lo sfruttamento degli animali non umani. Il bello però è che Pokémon Nero è il primo gioco Pokémon dove l'antagonista N è un personaggio dichiaratamente antispecista, cioè lui lotta per liberare i Pokémon dalle Pokéball che per lui sono una schiavitù e per appunto renderli liberi dagli esseri umani, quindi tutta questa digressione, questo volo pindarico per dire la roba un po' simpatica che è uscita nel discorso, ma comunque che cosa c'entra? C'entra con il fatto che io magari invece di giocare con i miei coetanei anche perché mi hanno sempre presa in giro, come ero da piccola bullizzata, aggiungo questo dettaglio, magari giocavo con il videogioco e in questo videogioco già c'erano i messaggi capitopotenti di liberazione, ma siamo davvero liberi, ma quello che ci hanno sempre insegnato è vero? Perché oppure è accettabile, è giusto, è condivisibile moralmente, sono dei quesiti interessanti che mi sono sempre posta anche per via magari di queste forme d'arte, cioè questi videogiochi, tipo è normale che nel mondo dei Pokémon si utilizzino le poche bolenne, ribalta questo assunto, io cerco di farlo un po' con tutto e qui ritorna un po' quella roba che ti dicevo sulla messa in discussione. sì, 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 certo invece andando a parlare di parliamone di OF quindi il sex working tu da quanto tempo è che hai questa idea di, che avevi questa idea insomma di fare la sex work? Da tantissimo tempo ti giuro se non fosse illegale l'avrei fatto anche prima proprio perché tra l'altro visto che tu giustamente hai introdotto il fatto che io abbia aperto la mia pagina di attivismo quando avevo 14 anni ti ricordi lo scandalo dei gruppi di Telegram prima quarantena? me lo ricordo perché io sono stata quella che ha fatto casino brava e sono insieme anche ad altre persone riuscita a farli chiudere a farli chiudere qualcuno sì, sì, sì quindi io mi ricordo perché anche io centro perché poi vista la mia natura psicopatica in realtà mi hanno dato un po' dell'eroina ma io non l'ho fatto per gli altri hai fatto perché? l'ho fatto per il mio gusto di bullizzare questi qua perché comunque a me piace umiliare pubblicamente le persone questo è il mio il mio disturbo di personalità quando c'è qualcuno che oltre a togliermi la soddisfazione di umiliarlo ho anche il plauso del pubblico per me che sono una narcisista è proprio il top del top e quindi per questo motivo io mi ero impegnata in quella guerra sì che poi sempre un attimo accantonando l'argomento per dire una cosa un po' silly mi era capitato un tuo tiktok dove dicevi che la giustizia della diva è legata alla bilancia e non alla vendetta quindi la gente diceva lei è ascendente scorpione perché è cattiva invece sono ascendente bilancia e quindi sì per me è giustizia la vendetta è giustizia da questo punto di vista sì magari ci sono delle situazioni dove io posso non essere d'accordo però lì si parla di gente che diffondeva dati privati delle persone gente che poi ha sempre compiuto queste nefandezze rimanendo all'anonimato quindi è il minimo che tu li abbia proprio smerdati pubblicamente poi alcuni li avevano proprio smerdati con nome e cognome quindi è stato bellissimo la vendetta ti dico anche se tu puoi non essere d'accordo su alcune cose personali che sono successe però comunque vendicarsi riporta sempre ad un equilibrio cioè se ti viene fatto un torto io non ho mai fatto del male senza ragione gratuitamente è vero che all'interno delle mie vendette ci sono state delle vittime magari inconsapevoli che hanno frequentato la persona sbagliata nel momento sbagliato ed è vero che quelle persone magari a me non avevano fatto direttamente qualcosa però erano al posto sbagliato nel momento sbagliato e comunque vendicarmi anche di loro ha riportato un equilibrio nella mia vita nella mia psiche ecco quindi comunque nel mio caso ti parlo per il mio disturbo di personalità che non è quello degli altri però nel mio caso comunque c'è sempre questa cosa dell'equilibrio di ricreare l'equilibrio che ho perso magari a causa di qualcun altro allora ti dico una cosa poi ritorniamo al discorso sempre di di telegram che te lo volevo dire per una cosa legata al sex work eccetera eccetera già a quei tempi io odio i moralismi odio tutti i tipi di moralismi qua ci troviamo d'accordo quindi io non è che mi metto a fare anche avendo diciamo partendo da una base diversa dalla tua e no avrei sbagliato perché bisogna avere empatia e altre cose no perché secondo me ci sono dei modi anche più appetibili con cui le persone possono comprendere quello che intendo io quando dico che forse la vendetta non è sempre la scelta migliore nel senso che l'empatia è anche un privilegio perché ci sono delle persone che per i propri vissuti personali individuali soggettivi intimamente sono state deprivate oppure non hanno mai avuto modo di avere un certo tipo di contatto emotivo con le persone perché hanno incontrato veramente dei pezzi di merda poi ognuno ha il diritto di reagire come vuole quindi più che dirti ne hai sbagliato è non argomentando a me viene da dirti perché io cerco sempre di arrivare al perdono perché sono una persona molto curiosa non che tu non lo sia ma ti spiego qual è la mia visione di curiosità nel senso che io vedo le persone che si comportano in un determinato modo perché in atto mettono dei meccanismi psicologici che sono malsani quindi ti vogliono fare del male per ragioni X tu mi dici è soddisfacente utilizzare quelle stesse ragioni contro di loro per annientarli io ti dicessi se il mio potere quindi si farà sempre di questi giochi interessanti lo affermassi capendo come disinnescarli e quindi dando loro l'idea che quello che hanno fatto è sbagliato utilizzando la loro stessa psicologia io mi ci diverto molto con questo sì assolutamente quindi assolutamente sì 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 capisco quello che intendi è una strada capito che si potrebbe assolutamente no è vero perché anche io conta che comunque in queste situazioni quando si parla anche di relazioni sentimentali il discorso che tu fai tu molto lucido è difficile da applicare chiaro perché entra in ballo l'emotività sono d'accordo però sono assolutamente d'accordo con te in una situazione in cui magari viene meno l'emotività anche io magari penserei a come aggirare diciamo il problema in questo modo questo sì è una cosa molto intelligente certo anche perché ti ripeto è una questione che è ambivalente come ti ho detto non te l'ho messa sull'empatia perché il retroscena di questo ragionamento può essere io faccio tutto questo sforzo mentale per il bene dell'altra persona perché non voglio che soffra della mia reazione anche se a volte delle reazioni violente sono assolutamente giustificate e questo lo spiego anche nell'attivismo e con reazione violenta intendo che se uno mi dice che sono una puttana di merda perché bla 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 non è che io dico guarda in realtà questo viene da un presupposto mi sono di sei un coglione e magari sei un coglione argomento il perché chiaro però nel senso in queste relazioni più private ti dico che ci può essere il retroscena di lì lo faccio per non ferire i sentimenti dell'altra persona ma anche per sentirmi bene con me stessa nel senso cazzo guarda come sono intelligente che l'ho rimesso al suo posto senza ferirlo e cioè manomettendo proprio la sua forma mentis decostruendola e poi ricostruendola bene esatto ma questo è un principio della manipolazione davvero si beh ci troviamo d'accordo perché questo che tu fai beh forse è manipolazione perché la parola manipolazione viene sempre vista in negativo però in realtà anche gli psicologi che fanno proprio questo lavoro che dici tu è una forma di manipolazione in positivo non è che la manipolazione è solo in negativo questo intendo dirti e tu hai praticamente fatto questo ragionamento il ragionamento che farebbe uno psicologo ti piacerebbe fare la psicologa peccato scusami se non ti ho ancora risposto sulla domanda sul sex work ma come vedi anche questo ha preso una piega intensa sì mi piacerebbe molto solo che attualmente informazione personale utile per il podcast studio cinema sì e studio cinema perché ecco vediamo se riesco a connettere le due cose per evitare di perdere troppo tra l'altro a me hai detto non so se si può dire però hai anticipato una cosa riguardo al tuo studio del cinema ah che farò la regista porno sì certo certamente certamente tu vorresti fare la regista porno sì nel senso che mi piacerebbe proprio dirigere proprio la regia poi mi piacerebbe fare la sceneggiatrice porno perché ovviamente cioè se devo questo non vale sempre perché io posso trovare una storia scritta da una persona e posso girarmela come cazzo mi pare vedi Nabokov che ha scritto Lolita Kubrick se l'ha fatto in un modo altri registri sono fatti in un altro però ecco a me piacerebbe scrivere le mie robe perché poi voglio fare un porno bello intenso un porno bello cervellotico una roba carina però non dico più di tanto perché ecco sarà una sorpresa ovviamente ne parleremo in un prossimo episodio del podcast in un prossimo episodio ecco magari sì esatto esatto poi se vuoi inserirmi nel porno come mistress magari alla faccia magari e poi vorrei anche vabbè fare da attrice in alcune cose perché attori registici sono anche se magari non sono molto qualificata perché non ho studiato recitazione io lì vorrei delle persone che studiano recitazione per una questione però visto che la scrivo faccio questa piccola eccezione comunque io faccio cinema e non magari psicologia nonostante mi interessi tantissimo perché credo che sia un ottimo modo per curare il mondo per insomma dargli qualcosa di positivo perché secondo me l'audiovisivo è una forma potentissima per fare breccia nel cuore e nelle menti delle persone cioè la gente magari imparerà tanto da una seduta dallo psicologo però imparerà ancora di più se tu cosa che fai già sul tuo podcast non sul tuo podcast perdonami sul tuo profilo Instagram fai una diretta con una psicologa e questo perché perché i social con i video con tutte queste funzioni insomma fanno circolare tante cose e comunque padroneggiando l'arte del cinema l'arte dell'audiovisivo vorrei arrivare sempre a vette più alte a un pubblico più ampio quindi tu adesso fai già l'università ma infatti ti volevo chiedere tu hai appena 18 anni non dovresti ancora finire le superiori dovrei ancora finire le superiori però ho frequentato un liceo quadriennale che dura 4 anni invece che 5 grazie al cazzo lo dice il nome e poi ho fatto la primina però ritornando al discorso dei gruppi Telegram ti volevo dire che io ho iniziato proprio a fare attivismo in quel periodo là e ho fatto un post seguendo poi l'hashtag di Nicole Rossi che tra l'altro saluto perché è una bravissima divulgatrice mi piace molto anche lei tra l'altro interessatissima al cinema solo che lei lavora in un altro ambito e l'hashtag era io non sono porno senza il mio consenso ovviamente e subito lì ho parlato di quanto fosse bella la libertà sessuale ma solo se parte dalla persona che la esercita e non diventa coercizione da parte di quelle merde che invece umiliano solo lo umiliano non come fai tu per giustizia ma umiliano per gusto di farlo quindi perché questo io lo vedo legato al porno perché secondo me il porno proprio perché attira tanto è una forma di attivismo fantastica o perlomeno potenzialmente lo potrebbe essere tu mi hai detto della psicologia ma sai quante storie si potrebbero raccontare col sesso quante storie di vendetta quante storie di solitudine di tristezza di depressione di amore di ossessione ma infatti è un peccato che i porno io non li guardo perché comunque sono sempre la solita scopata non c'è mai qualcosa di intellettuale forse in qualche film erotico più da cinema ecco però tu immagina questo che dici tu applicato a un vero porno e soprattutto e soprattutto che poi non venga mitigato con l'aspetto del vabbè ma qua facciamo vedere la ripresa artistica dove c'è la persona che bacia il capezzolo dove c'è il missionario no io voglio anche fare delle robe hardcore belle e violente e lì metterci l'intellettuale perché voglio far capire che ciò che è sempre stato considerato volgare non per forza va in contrapposizione con un aspetto un pochino più alto del pensiero assolutamente ma questo lo vedi anche ad esempio nel BDSM che comunque è molto intellettuale no cioè quindi in certi casi anche qua poi ovviamente c'è di tutto però già ha più un aspetto psicologico rispetto al porno nudo e crudo insomma no come viene quindi secondo me tu potresti fare qualcosa di molto bello quindi ragazzi aspettiamo il porno di Maria Sofia come regista come regista anche come attrice come ti dicevo speriamo di esserne sempre all'altezza ma sai che anch'io avevo pensato mi piacerebbe magari in un futuro fare la regia di un porno però lo farei al femminile con la donna dominante e l'uomo oggetto ma infatti quello diciamo quest'ultima cosa oppure no no niente scusate lo schiavo perché qua abbiamo anche lo schiavo Anfi che ha avuto il piacere di conoscere Maria Sofia e ovviamente si è fatto sentire ah beh ci sta ma infatti intanto cioè nella mia mente ci sono un sacco di pensieri quindi cerco di dividerli in maniera comprensibile riguardo il discorso del porno non due crudo certamente ci sono delle pratiche che per natura hanno proprio una costituzione che deve essere intellettuale per esempio parlavamo anche con lì anzi io parlavo perché tu dovevi ancora arrivare con Lili che è la titolare di questo danzion che tra l'altro vi invitiamo a seguire Lili Dupont seguitela fantastica una grande mistress italiana tanta roba che mi spiegava proprio di come lei prima di tanto non sono fatti personali raga quindi mi posso permettere di dirli lei prima di entrare in sessione deve per forza avere una conversazione con i suoi clienti proprio per capire chi ha davanti perché c'è una grande intesa dal punto di vista psicologico dal punto di vista mentale però è anche vero che questa profondità può essere costruita magari anche con delle robe più più mainstream tipo ti sborro sulla faccia tipo ti penetro tipo ti sto sopra ti sto sotto eccetera eccetera con una storia non togliendo di violenza magari non togliendo di amatorialità perché tipo io potrei scriverti una storia meravigliosa che parla di due innamorati due persone che si odiano che però si ricongiungono solo facendo sesso una serie di robe che non ti sto dire adesso perché devono essere studiate certo poi non spoleriamo tra me esatto i futuri porno esattamente che tutti noi guarderemo e che devono ancora essere scritti bene quindi voglio mettere l'aspettativa alte perché ci devo lavorare no no siamo tutti curiosi di questo assolutamente e appunto però non togliere l'aspetto magari dell'amatorialità che magari non per forza farlo col cellulare ma senza fare troppe luci troppo di presenti perché comunque allora secondo me se io dovessi scegliere se guardare un porno realizzato appunto con un classico no e un porno amatoriale di una coppia vera io guarderei quello della coppia vera perché lì c'è realtà capito e oltre ad esserci realtà e spontaneità magari anche quella qualità bassa può eccitare cioè l'arte si fa in milioni di forme diverse e per ritornare al secondo punto che mi è venuto in mente riguardo una tua considerazione ti dico che l'arte può unirsi anche alla politica per esempio tu mi hai detto voglio fare la regista e voglio però raccontare di donne che siano poste su una figura dominante rispetto all'uomo oggetto tanta roba perché il problema del porno mainstream è che forse ha meno rappresentazione rispetto a tutta la realtà che però esiste nell'universo dell'erotismo certo sì esatto perché adesso viene molto distinto il BDSM dal porno tradizionale quindi porno tradizionale donna oggetto BDSM uomo oggetto perché invece non fare il porno proprio con l'uomo oggetto certo ma e perché non fare diciamo ribaltando il BDSM con la donna oggetto sì ma infatti c'è anche quello naturalmente sì 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 infatti il punto secondo me ecco perché ho parlato di politica cercare di rappresentare tramite lo strumento del porno più realtà possibili perché poi noi ci dovremmo anche fare una domanda esistenziale cacacazzo che però qui liquidiamo in maniera molto pratica che cos'è il sesso io prima ti ho parlato di sesso in maniera molto molto non discorsiva però si potrebbe dire ampia cioè ci ho messo la componente psicologica la componente della storia volendo tutto è parte di tutto volendo anche una carezza può essere un atto sessuale per qualcuno può essere un atto di odio un atto di sdegno cioè che ti accarezzo per prenderti in giro ogni azione può essere connotata in maniera differente in base al contesto ciò vale a dire che forse sarebbe più corretto proprio da un punto di vista della forma parlare di qualsiasi pratica esistente come un mezzo e qui si ritorna al discorso dell'attivismo nel mio attivismo so che visto che per i nostri costrutti culturali che purtroppo sono fondati sulla demonizzazione del sesso se parlo in particolar modo di un sacco di temi mettendoci però il collegamento ecco perché prima ti dicevo della politica con il sesso quindi io ti racconto tutte queste dinamiche psicologiche che magari ti potrei mostrare in altri modi con dei video di attivismo però con dei video porno accessibili a tutti su delle piattaforme non a pagamento io ho fatto attivismo ho destato la tua attenzione e con il mezzo per l'appunto che per via della chiusura mentale attuale è più è più di impatto ho fatto pure jackpot perché mostrando che il porno non è solo una cosa disgustosa che poi questo è solo una cosa disgustosa perché di per sé non lo dovrebbe essere non è una cosa disgustosa in più può essere utilizzato per tutto ti tolgo anche la stigmatizzazione certo quindi questa è la mia visione certo e direi che è una visione molto molto interessante grazie ecco quindi siamo sicuramente tutti interessati curiosi di vedere cosa riusciresti a produrre insomma sarebbe una grande novità comunque anche nel mondo dell'adult sì per esempio io so che di registe femministe che quindi si preoccupano molto di queste dinamiche si preoccupano molto di dare un aspetto del porno diverso dal mainstream che è molto performativo a volte anche il reale ok che il porno è reale perché è intrattenimento siamo d'accordo però è anche vero che magari far vedere più reali nel senso esistono dei film tipo quelli della Marvel chiaro che quella è una realtà quindi io non posso come Spider-Man non so se Spider-Man sia della Marvel ignorantissima penso di sì però anch'io ignorantissima quindi vabbè non è che io ah no ci dicono dalla regia che sia della Marvel di Marvel di Marvel non è che io come Spider-Man posso mettermi nella vita reale a lanciare le ragnatele a saltare tra i palazzi quindi ovviamente non mi aspetto che quello che vedo nel porno sia reale però è anche vero che come ci sono dei film diversi da quelli della Marvel che raccontano di una realtà un pochino più vicina a quella del come si chiama dell'immaginario della dimensione più recondita di tutti noi vedi per esempio che cazzo ne so in realtà anche quella è una storia un po' così però Lolita è una cosa differente dal film della Marvel magari è una storia che non avviene tutti i giorni ma è una storia che può avvenire purtroppo ovviamente purtroppo e io vorrei dare questa vastità vorrei dare questa alternativa quindi ci sta il porno come intrattenimento come i cazzi enormi come le tipe che squirtano e inondano tutta sta stanza sarebbe bello dare qualcosa in più oltre al semplice realizzo un porno per far fare una sega qualcuno certo voglio fare tutto lo so che tu non lo stai dicendo però lo dico per le persone che ci seguono che non dubito siano intelligenti però questo video potenzialmente può arrivare a chiunque quindi spiego le cose in maniera sempre molto molto schematica ovviamente anche il porno raga fatto solamente per la sega non ha nulla di disonorevole non ha nulla di indignitoso però appunto noi vogliamo dare la vastità persone che come me non sono interessate a quello non guardano il porno magari avrebbero piacere a vedere qualcosa di un pochino più intellettuale sicuramente che poi sempre sul fronte politico perdonami se mi permetto di prendere la parola si collega tanto a quello che tu credo in un altro episodio del podcast hai trattato eloquentemente ovvero la normalizzazione di un determinato tipo di pratiche sessuali che vanno oltre la penetrazione vanno oltre lo scambio di lipidi corporei cioè quando quelle merda ti hanno attaccata perché tu hai fatto quella dichiarazione è perché purtroppo magari anche perché c'è poca rappresentazione visto che poi raga scusate sempre per la parentesi giustamente la gente dice il porno non è la realtà quindi ci dovrebbe essere l'educazione sessuale a scuola e le persone da lì dovrebbero imparare che cos'è il sesso però fino a che questa educazione sessuale non c'è è chiaro che come role model purtroppo prendo quei video lì anche se non è il loro compito quindi magari proprio per il lack di informazione che c'è su questo tema la gente non sa che esistono persone come te che legittimamente vivono la propria sessualità non con la penetrazione non con il scambio esatto con lo scambio dei liquidi ok sì sì no infatti infatti comunque io direi che abbiamo detto un sacco di cose anche perché questo argomento qua con cui stiamo concludendo lo riprenderemo in un video che uscirà sul tuo Instagram quindi seguiteci su Instagram perché usciranno altri contenuti quindi qui ci sarebbe da parlare tantissimo però naturalmente abbiamo tempo limitato dei tempi anche perché adesso dobbiamo metterci sotto a fare altri contenuti che vedrete però io ti vorrei assolutamente in un'altra puntata del podcast quindi sicuramente ci sarà modo di collaborare ancora sto morendo scusate ci sarà modo di collaborare ancora e magari di parlare di altri argomenti perché sono molto molto interessanti grazie mille quindi niente grazie per averci seguite sia che siate su YouTube sia che siate su Spotify sono veramente contenta di averti portata come ospite e attendo sotto YouTube i vostri commenti quindi fateci sapere che cosa pensate di tutte queste cose se siete curiosi di vedere il porno di Maria Sofia da regista da regista bene date il feedback sia tra i commenti se vi è piaciuta questa puntata se non sono stata troppo fastidiosa oppure se lo sono stata ditemelo così diciamo prendo godimento dalla vostra degradazione vedi il ribaltamento del potere che pensano di farmi il torto Alicia mi degraderà in questi contenuti quindi seguite anche quelli la degraderò io esatto e poi vabbè datemi in futuro anche il feedback per i contenuti porno da regista ciao è stato un piacere ciao alla prossima puntata grazie a tutti